Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra galassia. Ecco il primo evento a tempo che in realtà scadrà oggi stesso ma ricomparirà a marzo durante l'evento del cataclisma cioè l'evento dei titani. È un evento di combattimento lo potete trovare nel menu apposito ed è un evento molto semplice dovrete uccidere 4 titani particolari che troverete nella mappa. I luoghi dove trovare i titani sono i seguenti potete stoppare il video e segnarvi o salvarvi l'immagine nella mappa che vi sto mostrando così avrete sempre un riferimento. Questo evento vi porterà ad un bottino estetico unico cioè il vinile della fondazione. Chiaramente ci sono due modi per fare questo evento cioè velocemente in modalità easy basterà entrare in freeplay trovare titani e ucciderli facilmente. Varra lo stesso e sarete soddisfatti. Il secondo modo quello più complicato è sconfiggere questi 4 titani in modalità grandmaster perché hanno un'ottima probabilità di droppare oggetti mitici e perfino leggendari. Per sconfiggere i titani però bisogna conoscere i loro punti deboli che ahimè sono pochi infatti sono pressoché immuni da qualsiasi tipo di elemento e per ucciderli facilmente dovrete utilizzare tutte quelle abilità da impatto che esolano dagli elementi e fanno parecchio danno. Se in team avete dei colossi sarebbe l'ideale in quanto sono i più portati per uccidere facilmente i titani stessi. Ricordatevi che i titani fanno tre tipi di attacchi più un'evocazione. Questi attacchi sono solo di fuoco e possono essere schivati abbastanza agilmente. Per migliorarvi la vita potete sfruttare gli elementi della mappa e ripararvi durante gli attacchi con line bot da parte del mob stesso. Altro consiglio durante questi estenuanti combattimenti è di continuare a spostarsi attraverso la mappa quindi continuare a magari girare attorno allo stesso titano e di colpirlo solo ed esclusivamente mentre è in fiamme. Infatti è abbastanza inutile spercare proietti e abilità durante le fasi di stallo. I titani soprattutto in modalità grandmaster sono delle brutte veste. Fatta attenzione e buon divertimento. Con questo è tutto. GG a tutti quanti.